Buongiorno a Fettia Online, positivo questa mattina è il Fuzzimi, ben guadagnato dello 0,75% circa, siamo a un aumento a 16.250 punti, i prezzi hanno completato il piccolo doppio minimo che si era venuto a creare nella seduta di ieri con una base attorno ai 16.000 punti e con un limite superiore posizionato a 16.235 circa, se la figura verrà confermata con movimenti al di sopra dei massimi odierni che si collocano intorno ai 16.330 punti, diventerà possibile un movimento di rialzo verso 16.500, solo la ricopertura completa del gap rialzista di questa mattina con una base sui 16.150, costringerebbe invece a considerare negato la figura rialzista il doppio minimo e si aprirebbe in quel caso il rischio di un test di area 15.750 almeno. Questa mattina è da seguire con attenzione Eni, rialzo del 1,21%, siamo a 13,38 Euro, già nelle ultime due sedute si era venuta a creare una situazione potenzialmente interessante con questo piccolo doppio minimo, un tweezer bottom formato dalle candele del 2 e del 3 di agosto, la candele del 3 di agosto tra l'altro è un doji, quindi formata da apertura e chiusura praticamente coincidenti, il doji si è venuto a creare in prossimità del forte supporto dei 13 Euro dove troviamo il 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi di febbraio, oltre che i minimi di maggio e i minimi di giugno. La tenuta dei 13 Euro e la rottura del massimo di due giorni fa a 13,42, quindi i livelli sui quali sta insistendo in questo momento il titolo, lascerebbero sperare in una evoluzione al rialzo, almeno fino ad andare ad intercettare la base del doppio massimo che si era venuta a creare a partire dal 4 di luglio intorno ai 14,90-14,95, quindi primo target a di sopra di 13,48-13,50 a 14,05, possibilità successivamente di salire fino a testare la linea di tendenza che scende dai massimi dello scorso ottobre e che attualmente transita a 14,83-14,85 circa. Solo se dovessimo scendere da di sotto i 12,95-13 ci sarebbe un rischio elevato di proseguimento della fase negativa, non va dimenticato infatti che il titolo ha già inviato un segnale di debolezza scendendo al di sotto la linea di tendenza che sale dai minimi dello scorso febbraio e anche in termini di medie mobili, se andiamo a guardare ad esempio la media a 100 sedute, ci accorgiamo che è stata violata in corrispondenza della linea di tendenza, quindi ovviamente importante come resistenza a 13,75 nel momento in cui dovessimo ritornare su quei livelli e come abbiamo detto successivamente abbiamo una resistenza a 14,05 e una a 14,86-14,75 circa. Ma guardiamo anche Eni in relazione all'andamento del prezzo del gregio, in questo caso al WTI, iniziamo con un grafico che ci mostra l'indice di correlazione che lega il prezzo del petrolio e il titolo, in questo momento l'indice di correlazione che quando vale 1 indica correlazione è perfetta, in questo caso calcolato su base annua è stato in prossimità del valore 1 sia per tutta la prima parte del 2015, ma anche nella prima parte del 2016, adesso la correlazione si è leggermente allentata, siamo scesi a 0,65 quindi è positiva, è significativa, ma non è perfetta, perciò c'è una certa indipendenza tra quello che può fare Eni e l'andamento del prezzo del gregio, resta sicuramente un fatto importante quello che il petrolio condiziona all'andamento del titolo, andiamo quindi a vedere quali sono le prospettive sul gregio. Il WTI ha messo a segno un bel rimbalzo nella seduta di ieri partendo dalla base dei 39,30, anche in questo caso abbiamo, si è disegnato un piccolo tweezer bottom, quindi una figura dal potenziale rialzista significativo, la figura si è venuta a creare come pereni in prossimità del 50% di rifacciamento del rialzo dai minimi di febbraio, quindi un supporto solido che potrebbe anche sostenere un tentativo di reazione significativo, in termini di media mobile la media a 100 giorni transita abbastanza lontana dal prezzo attuale, intorno ai 45 dollari e potrebbe essere quello un primo obiettivo per un eventuale rimbalzo in caso di superamento di area 42. Abbiamo anche una linea di tendenza che partendo dal massimo del 29 giugno taglia al ribasso il grafico dei prezzi, tale linea si può intendere come lato alto del canale ribassista che ha contenuto il ribasso nelle ultime settimane, attualmente transita 43,55, quindi il superamento di area 43,50, 55 sarebbe appunto il segnale per il test di 44,70 nel media mobile a 100 giorni. Oltre quei livelli resistenza a 45,87, minimo del 17 giugno e successivamente possibilità di tornare in area 51,51,50. Quale è invece il rischio sul fronte opposto? La violazione del 50% di risarciamento, quindi di area 38,90, 39 dollari sarebbe un segnale di debolezza preoccupante che farebbe temere una ulteriore avanzata verso area almeno 35,80. Vediamo la media mobile a 200 giorni che è un indicatore significativo per capire l'andamento e la tendenza del medio e lungo periodo, in questo momento è stato riattraversato a rialzo dei prezzi, la media indicava una situazione di ribasso, la media a 200 giorni ormai dal lontano luglio del 2014, aveva funzionato molto bene come resistenza nel corso della fase ribassista, una volta superata il rialzo ad aprile di quest'anno, i prezzi si erano allontanati, la discesa che c'è stata è servita come una sorta di retour move a toccare ovviamente la media dall'alto, il fatto che ne siamo già ritornati a di sopra è un ulteriore elemento che depone in favore di un tentativo di rimbalzo che le quotazioni del greggio potrebbero mettere a segno nel corso delle prossime settimane, condizione questa che ovviamente sarebbe come abbiamo visto data la correlazione tra i due strumenti, un evento ovviamente favorevole anche per l'andamento di Eni. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi diamo appuntamento domani con il nostro consueto commento giornaliero e vi auguriamo buona giornata.